Buongiorno a tutti, io sono Matteo Combi e sono un solution architect presso SIA. Con me c'è Nicola Nicolotti che ha affrontato con me e con altre persone un percorso di introduzione della piattaforma OpenShift presso la nostra azienda. Noi oggi siamo qua non tanto per raccontare delle particolarità tecniche, delle soluzioni particolari che abbiamo scelto di implementare nei nostri progetti, ma perché abbiamo pensato fosse importante in un evento come questo, dove la condivisione di esperienze dovrebbe essere una delle cose principali che affrontiamo, quella che è stata la nostra esperienza e quello che è stato necessario modificare a livello di processi aziendali, a livello di organizzazione. Perché SIA, per chi non la conosce, non è propriamente una start-up, è un'azienda consolidata, è un'azienda che ha dei processi ben definiti, dei valori in cui si riconosce e quindi per provare ad erogare in modo diverso dei servizi, è stato necessario intervenire non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista più umano, più di processo, più di organizzazione. Molto brevemente, i progetti che siamo andati a scegliere per essere erogati su questa piattaforma sono stati due. Verso la fine del 2017 è emersa un po' questa necessità da più parti di dover erogare, in un modo diverso da quello tradizionale a cui eravamo abituati, due progetti. Un primo in ambito PSD2, per prepararsi a quello che sarebbe stato l'entrata in vigore della PSD2 che è andata in onda pochi giorni fa, quindi con necessità di riduzione del time to market, aumento della flessibilità. Mentre un altro progetto che ho seguito più direttamente ha riguardato il refactoring di un gateway di pagamenti, con necessità di elevata scalabilità e stabilità del sistema. Per PSD2, per introdurre un attimino il progetto molto ad alto livello, le caratteristiche sono state quelle di avere la necessità di esporre facilmente i propri servizi, l'integrazione con servizi di terze parti, accelerare lo sviluppo anche di questi servizi, e degli ambienti dove fosse possibile sperimentare, pensare con la collaborazione di più soggetti dell'API. Quindi provare a vedere cosa succede, se la soluzione va bene, si va avanti, se no ci si ripensa. Questo progetto è stato ad alto contenuto tecnologico e infrastrutturale, perché è un progetto PCI compliant, ha visto l'introduzione di un API gateway come Treescale, c'è stato molto focus sulla sicurezza, sulle personalizzazioni a livello di rete, come sull'F5, sulla gestione dei certificati. Mentre l'altro progetto ha visto diverse complessità dal punto di vista software. Abbiamo utilizzato un cluster H, messo su OpenShift, che non è stata un'operazione propriamente semplice. Abbiamo avuto una richiesta di scalabilità, di reggere a picchi di traffico, prestazioni elevate, e la riduzione, se non l'annullamento, dei tempi di downtime in fase di rilascio. Come obiettivi tecnici, quindi riassumendo, come ho detto prima, abbiamo l'implementazione di API management da una parte e cluster H dall'altra, mentre ci siamo dati anche degli obiettivi non tecnici. Ridurre i tempi di rilascio per tutti i progetti e favorire anche la collaborazione tra dev e operation, che in un'organizzazione un po' più tradizionale sono sempre state due realtà abbastanza divise tra loro. Questo abbiamo cercato di raggiungerlo creando automatizzazione delle procedure di rilascio, e quindi dei rilasci, e anche cercando di dare della standardizzazione su diverse procedure per rendere il lavoro più semplice. Inizialmente per affrontare questo percorso abbiamo mantenuto un approccio molto, come dire, soft, nel senso che non è stato possibile, anche per dei vincoli temporali di progetto, effettuare un grande stravolgimento di ruoli, modalità di lavoro e di competenze. Man mano che questa parte di progetto andava avanti, però sono emersi le prime difficoltà, e quindi a fronte delle prime difficoltà emergono anche delle domande. Al di là poi di quello che si legge sui vari manuali, su come si affronta il DevOps, eccetera, ci si chiede cosa stiamo sbagliando, come altri che hanno affrontato problemi analoghi ai nostri, come li avranno risolti. Io ho avuto la fortuna di confrontarmi anche con diverse persone provenienti da realtà simili alla nostra, e il fatto di aver riscontrato anche in altri gruppi, in altre aziende, delle difficoltà, un po' è stato, come dire, fonte di, cioè ha rincuorato, ci ha dato un po' di, delle conferme, perché comunque abbiamo capito che ci sono le teorie, ma poi per applicare realmente un cambiamento a livello di processi, a livello di gestione dell'innovazione, è necessario trovare qual è il proprio equilibrio, quindi cercare di calare queste best practice in quella che è la realtà aziendale. Nonostante ciò, dopo alcuni mesi, siamo riusciti a portare le prime funzionalità in produzione, che funzionavano anche abbastanza bene, ma alcuni problemi sono comunque rimasti, perché comunque una certa difficoltà nell'erogare i servizi legata alla scarsa conoscenza delle piattaforme, c'era rimasta, avevamo problemi che rimanevano fermi nei corridoi, nel senso che erano quei problemi magari legati a competenze cross, quindi un team non aveva acquisito quella competenza in più che serve per erogare su una piattaforma come OpenShift, l'altro nemmeno, i problemi rimanevano lì senza avere una soluzione vera e propria. C'era anche una certa mancanza di empatia magari nel gruppo, perché appunto rimanendo su un'organizzazione molto suddivisa, si innescano quelle dinamiche di conflitto tra i vari gruppi. E legato al primo punto non c'erano comunque quelle competenze trasversali che permettevano di gestire in modo tranquillo e sereno i servizi in un sistema realmente in produzione. Quindi verso settembre dell'anno scorso si è deciso che era necessario, che questo approccio non bastava, ma era necessario introdurre un cambiamento. Io ho cercato di rappresentare in una timeline questo cambiamento che è avvenuto a fine del 2018. Questo per rappresentare il fatto che da quando abbiamo iniziato a gestire in modo diverso l'approccio ai progetti, all'orogazione di questi sistemi, sono state completate molte più attività, con una conoscenza maggiore. Siamo riusciti a traguardare l'ambiente di produzione per entrambi i progetti che c'eravamo prefissi di migrare sulla nuova piattaforma, centrando le date di rilascio. Come l'abbiamo fatto ve lo spiega adesso Nicola, a cui lascio la parola. Grazie Matteo, buongiorno a tutti, io mi chiamo Nicola Nicola Ecolotti, lavoro in SIA e nella divisione IT Operation, quindi sono l'erogazione rispetto a sviluppo. Ora che cos'è l'ITM? È una nota serie televisiva, in realtà non lo è. ITM non è altro che un gruppo agile che nasce in SIA come risposta alle problematiche di integrazione dei due servizi, quindi PSD2 e l'altro servizio di pagamenti, che dovevano essere praticamente ospettati e erogati sulla piattaforma OpenShift. Uno dei motivi per cui l'azienda ha puntato su OpenShift è ed era quello di ravvicinare lo sviluppo all'erogazione. Questo per rispondere al cambiamento, che è un requisito molto spesso richiesto dallo sviluppo, piuttosto che avere una piattaforma che fosse stabile e questo invece è mandatorio per l'erogazione. In realtà l'adozione di OpenShift all'interno dell'ecosistema SIA, quindi fatto di persone, strutture, valori piuttosto che di processi, è stata come una cassa di risonanza, ha amplificato la distanza tra sviluppo e erogazione e ha messo soprattutto in luce tutti quelli che sono i limiti derivanti da un approccio waterfull dei progetti, piuttosto come diceva bene prima Matteo, la mancanza di un know-how condiviso. Molto spesso questa mancanza di know-how condiviso che cosa porta? Porta le diverse aree di competenza a occuparsi soltanto dei problemi di pertinenza e tutto ciò che è in mezzo molto spesso non viene preso in considerazione e l'essere riparcheggiato, come diceva Matteo, nei corridoi. A questo punto nasce l'E-Team. L'E-Team quindi nasce come risposta dell'azienda principalmente per raggiungere un obiettivo di business, essere in produzione nelle date previste, senza nessuno sconto. E quindi cosa eredita l'E-Team? eredita appunto le date di Golai, eredita lo sviluppo del software quasi ultimato, quindi non era più possibile tornare banalmente indietro per apporre quelle correzioni necessarie, eredita una infrastruttura OpenShift 3.9 perfettamente funzionante e poi una serie di problemi o presunti tali, perché a questo punto bisogna capire se i problemi erano veri oppure non lo erano. Quindi l'E-Team parte da questa condizione, da questo contesto, con l'aggravante di non avere persone dedicate. Ora, i primi passi dell'E-Team, potete immaginare quella che era la situazione in SIA, è stato più su un modello di una task force, piuttosto che come un team agile. Questo ci ha permesso, a dire il nord del vero, di risolvere alcuni problemi, come per esempio la perdita di log su OpenShift, piuttosto che alcuni problemi di performance. Il problema qual era? Che il gruppo veniva ingaggiato e le persone ingaggiate erano tutte committate alla risoluzione del problema e non veniva preso in considerazione invece quello che era il raggiungimento dell'obiettivo di business, andare in produzione. Il cambiamento c'è stato quando il team, per un momento, ha sospisso di attività e ha cominciato a mappare le attività piuttosto che le problematiche utilizzando come valore il valore di business che la risoluzione di quel problema, piuttosto che il portare a termine un'attività, avrebbe avuto, considerando anche i rischi. Ragionando con questa nuova scala di valori, che cosa è successo? E' successo che la prima cosa, un atto di discontinuità, la prima cosa che le team ha deciso di fare era quello di fare un upgrade della piattaforma tecnologica di OpenShift da 3.9, una piattaforma funzionante, dove erano già cominciati i primi passi di integrazione, alla 3.11. Questo per un motivo molto semplice. La release 3.9 era in scadenza di supporto, abbiamo deciso di fare un passo in avanti in modo da poter sfruttare appieno quello che era il supporto dell'ingegneria di Red Hat. Accanto a questi momenti, diciamo, tecnici, ci sono stati momenti più formali e in questo caso, devo essere sincero, anche supportati dall'ufficio del personale. Uno di questi è stata la dichiarazione del nostro manifesto, in cui il team ha deciso di dichiarare in maniera formale quelli che erano i suoi obiettivi e questo l'ha fatto principalmente perché si voleva essere visibili, non come un gruppo che si muove in maniera a pattuglie che praticamente interviene in quelle che sono le attività degli uffici, volevamo essere anche trasparenti e misurabili. Per far questo il team ha cominciato a darsi dei ruoli, quindi abbiamo un team leader, un product owner, piuttosto che il team di sviluppo e a supporto anche i project manager che sono a servizio oppure il vecchio modello di gestire i progetti. In questo caso una grande importanza è stato appunto il ruolo del product owner. A queste figure è stato assegnato il compito di praticamente definire le attività e soprattutto trasmettere agli altri componenti del team il valore che quell'attività avrebbe avuto nel contesto ai fini del raggiungimento degli obiettivi di business. Inoltre le team si è dato anche degli strumenti e degli eventi. Ha deciso di riunirsi su base settimanale e la pianificazione dell'attività era su base settimanale. Ha deciso di utilizzare Confluence e Gira come quindi strumenti per la documentazione e il task management. E infine all'interno dell'active directory aziendale è stato scelto, è stato fatto è stato creato un gruppo DevOps Teams banalmente che dà l'opportunità a tutti i membri del gruppo di poter accedere banalmente ai sistemi di altri uffici. In questo modo ad esempio un DBA poteva accedere ai log di sistema di OpenShift piuttosto che ai log dell'applicazione. Quindi gli obiettivi che volevamo raggiungere erano quelli della visibilità, trasparenza e essere soprattutto misurabili. Ora come abbiamo promosso le pratiche agile in SIA? I modelli possono essere tanti Kanban e Scrum sono diciamo quelli di riferimento. Il team ha deciso di utilizzare prevalentemente il modello Kanban. Questo perché è un modello meno restrittivo, dà meno vincoli e diciamo permette in modo graduale di cambiare le cose e permette anche alla gente di lavorare in maniera diciamo quasi più naturale rispetto a quello appunto che era il modo di lavorare in SIA. Questa qui diciamo che è una slide che mostra la nostra Kanban board e poi abbiamo un'altra che è la Scrum board. In realtà ci siamo anche sperimentati in quello che nello Scrum è definito come sprint. Questo l'abbiamo fatto in pochi momenti, ci siamo quindi sperimentati in questo e l'abbiamo fatto quando la funzionalità o l'incremento che le volevamo rilasciare era tale da richiedere uno sforzo corale da parte di tutto il team. Questa slide invece è un... diciamo che rappresenta in un certo senso il grado di maturità che a un certo punto il team è riuscito ad avere. ovvero a un certo punto la pass OpenShift è stata a sua volta considerata come un prodotto. E lasciato impastare il termine è successo che alcuni alcuni componenti del team sono stati promossi a product owner di OpenShift. a questi è dato il compito di aumentare le funzionalità di OpenShift in modo da aggiungere servizi al servizio dei servizi erogati. Immagino per esempio un sistema di volt per mettere in sicurezza le credenziali piuttosto che la possibilità di utilizzare degli operator. La seconda cosa che fa queste due persone è quella di intercettare le necessità di tutti gli altri team che richiedono OpenShift e vedere se il loro bisogno viene realmente soddisfatto dall'utilizzo quindi della piattaforma OpenShift. Ora i KPI è chiaro che gira al suo interno tantissimi indicatori e oggi ne presento tre quelli che per me sono i più significativi. Questo qua è il team workload questo mostra come le attività hanno avuto impatto su diverse aree organizzative quindi sono state impattate lo sviluppo o chi gestisce 3 scale piuttosto che il testing e il monitoraggio in rosso invece c'è una voce product backlog che invece non afferisce a nessun ufficio. In product backlog vengono raccolte l'effort che i product owner hanno dovuto le attività quindi legate al product owner nella generazione e popolamento del product backlog e nel suo continuo raffinamento. Questo per dire che la metodologia agile non consiste soltanto nell'eseguire attività ma consiste anche nel saperle spiegare e anche dettagliare. Quest'altro invece slide indica come il prodotto ha avuto impatto sulle attività delle team quindi è questo il motivo per cui OpenShift a sua volta è stato considerato un prodotto perché le attività che noi abbiamo dovuto fare su OpenShift sono state pari a quelle che noi abbiamo dovuto fare sul servizio per poterlo portare in erogazione. Questa slide invece è per me la più significativa perché mostra l'evoluzione e gli stati che il team ha attraversato. Il primo è la fase appunto di popolamento del backlog quando il team si è fermato e ha deciso che cosa voleva fare. La seconda parte invece è quella di studio. In questa seconda fase quindi il team si è sperimentato si è formato e ha cominciato a creare le sue dinamiche. La terza parte invece è quando il team ha cominciato a performare quindi a produrre effettivamente valore. Una cosa importante sono state segnate le due date di GoLive. Questa dimostrazione del fatto che nonostante ci fossero quindi degli appuntamenti ben precisi il team non ha subito sostanziali l'attività del team non ha subito sostanziali cambiamenti è andata a regolare come se nulla fosse assorbito in pratica le date di produzione e molto spesso sono quei momenti in cui si genera più confusione oppure più frenesia. Il DevOps nel manifest si è fatto riferimento al DevOps il DevOps è quello dove l'erogazione tende in particolare dotarsi di strumenti che permettano diciamo un delivery più veloce più sicuro e anche più frequente. Al momento stiamo lavorando per portare diciamo in pista in erogazione questa soluzione in cui abbiamo un Jenkins interno OpenShift per la continuous integration mentre una pipeline Jenkins esterna che ci permette di deployare le configurazioni piuttosto che le immagini sulle diverse piattaforme OpenShift di test piuttosto che di produzione. Ora ritornando a quello che diceva prima Matteo OpenShift per noi è stata la possibilità di erogare quindi su una piattaforma diciamo che permette di avvicinare lo sviluppo all'erogazione e OpenShift per noi è stato anche diciamo A-Team e A-Team poi all'interno dell'organizzazione SIA si è tradotta in SIA Agile il personale per dire ha diciamo cominciato una serie di attività e questa è la loro roadmap che attraverso il quale quindi promuovere all'interno della nostra organizzazione quelle che sono le metodologie e gli approcci Agile ho finito vi ringrazio per l'attenzione grazie